Salve della Val Cantona, lottizzazione di Arsie, via Giosuè Rezzo, primo sindaco di Ponte delle Alpi dopo l'unità d'Italia. Ecco qui una carellata di immagini, un po' di pioggia e l'acqua non si scarica. Ponte erano bravi i vecchi direttori di oggi. Ecco qui un'altra pozzangra che rimane anche chissà per quanto tempo, qui invece l'acqua scorre giù verso un tombino, però insomma poteva essere fatto anche meglio questo scalico qui. Questo qui, la zona verde, stanno allestendo mini parco giochi per i dindy di Arsie e qui è un'altra pozzangra. Questa resta da qui per un sacco di tempo perché non c'è un tombino a perdere così dicono, anche se è stato chiesto più volte. E come sempre, prima di sistemare la parte infrastrutturale, installano le attrezzature dove per accedervi uno si infanga fino al colpa. Così. E' il 29 di maggio, una giornata di sole, abbiamo voluto documentarvi lo stato di avanzamento dei lavori. E della Val Cantona è tutto.